Le improvvisazioni al sax e al clarinetto di Gianluigi Trovesi, uno dei momenti più intimi e intensi di Box Organi, il festival ideato da Alessandro Bottelli è giunto alla sua seconda edizione. Ospitato nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano di Lallio in provincia di Bergamo, ha visto avvicendarsi grandi organisti assieme a solisti di estrazione giazzistica come appunto Trovesi, che erano chiamati a rielaborare i temi della letteratura e dello strumento. Assieme alla musica, protagonista della serata, la letteratura, grazie a racconti di tre scrittrici italiane contemporanee, Marina Corona, Franca Mancinelli e Laura Pariani, tutti esempi perfettamente riusciti di come si possa essere trasversali e interdisciplinari riuscendo ad affascinare il pubblico.